Nuovo appuntamento con il notiziario targato Star Casino Sport. Ci avviciniamo al weekend di Serie A, torna il calcio giocato dopo il mercato e spicca il derby di Milano. Partiamo dall'Inter, la preparazione dei nerazzurri, visto che è considerato che studia le soluzioni giuste lì davanti Simone Inzaghi e la formula potrebbe essere quella di Lautaro con Dzeko. Scalpita infatti il toro dopo l'esibizione ovviamente con la nazionale argentina. Correa è l'unica assenza nel gruppo nerazzurro, subito disponibile il nuovo acquisto Caicedo che dovrebbe partire dalla panchina per Gosens. Ci vorrà ancora più di tempo ma comunque la scelta potrebbe ricadere sulla copiata composta appunto da Dzeko e da Lautaro Martinez per scardinare la difesa della Milan. Andiamo anche in casa rossonera con quelle che sono un po' le caratteristiche del Milan di Pioli. Pioli che deve ragionare su alcune situazioni da valutare le condizioni di Ibrahimovic e Tomori e allora potrebbe giocarsi la carta Giroud con il francese che scalpita per prendersi una maglia da titolare nel derby che si dovrebbe farcela con la prima convocazione che potrebbe arrivare per il giovane Lazietic, unico arrivo nel mercato invernale proprio per quanto riguarda il Milan e quindi la carta Giroud potrebbe essere quella decisiva per i rossoneri. Facciamolo appunto anche a livello grafico, ci facciamo accompagnare anche ovviamente dalla veste grafica per sintetizzare in pillole questa sfida. Il segno 1 al 50% perché l'interrogativo è come finirà il match, segno X al 25%, segno 2 al 25%. Restando sempre in Serie A, sempre dal punto di vista grafico, prima di farvi vedere una curiosità che ci arriva dal calcio estero, analizziamo anche la sfida tra Juventus e Verona. Quale sarà il risultato esatto? 2 a 1 al 14%, 1 a 0 al 13%. E a proposito di curiosità, nel passato Roberto Baggio ha giocato sia con la Juventus e sia con l'Inter e sia con il Milan. Perché vi parlo di Roberto Baggio? Perché c'è un giocatore che è brasiliano e milita nel Carioca, nel campionato brasiliano. E ha un po' una curiosità, se vogliamo, con il Carioca che è esclusiva di Sport Italia. Si chiama Roberto Baggio, segna nel campionato Carioca, è un trequartista, 26 anni e è brasiliano. Ha deciso la partita di esordio del torneo statale di Rio de Janeiro contro le Fluminense. Ha due fratelli che portano i nomi di altri due campioni del passato, Canigia e Romario. Tutto nasce dal fatto che suo papà, grande appassionato di calcio, vecchio stimatore del Divincotino, ha voluto assegnargli così questo nome. Non indossa la maglia numero 10, ma indossa la maglia numero 6 e potete seguirlo ovviamente su Sport Italia con il campionato Carioca. Questa è un po' una curiosità che ci arriva dal calcio estero. Torniamo sul calcio italiano con altre sfide che prendiamo in considerazione. In particolar modo, la sfida che vede protagonista il Napoli sul campo della Venezia. Quale sarà il risultato esatto? 0-2, 15%, 1-2 al 14%. La Roma invece, che è pronta ad affrontare il suo match con il Genoa. Anche qui prendiamo in considerazione una sfida che potrebbe vedere diversi protagonisti, ma verranno segnati più di tre gol. Under 2,5 al 40%, over 2,5 al 60%. Tempo di presentazioni per quanto riguarda il calcio estero. In casa a Barcellona è stato il turno di Aubameyang. Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra e dare tutto quello che posso per ritornare in Champions League. Avere Chavi come allenatore è fantastico. Sono sicuro che mi farà crescere tanto. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. A proposito di calcio estero, da Aubameyang ci trasferiamo invece nel discorso, nella prossima grafica legato alla FA Cup. Tottenham-Brighton, quale sarà il risultato esatto? 1-0 al 15%, 2-1 al 13%. C'è spazio anche per parlare di Olimpiadi Invernali e in particolar modo il conto alla rovescia è già partito per la cerimonia di apertura con la macchina organizzativa che ora entra nel vivo in vista della cerimonia di apertura per le Olimpiadi Invernali di Pechino. Ha preso il via anche la staffetta che porterà la torcia olimpica ad accendere il braciere. Nella giornata di domani diverse centinaia di spettatori hanno assistito alla partenza dei primi tedofori all'Olympic Forest Park, nord della capitale cinese. In realtà le gare già inizieranno nella notte e è arrivata in Cina anche Michela Moioli, portabandiera dell'Italia in sostituzione nel ruolo di alfiere di Sofia Goggia. Per ora 1.200 tedofori sono state le persone più premiate per i loro servizi in ambito sportivo che hanno preso parte all'Itinerario della Torcia, chiaramente al Tour, che andrà a concludersi con la cerimonia di apertura ormai all'orizzonte. E con le Olimpiadi Invernali di Pechino siamo in chiusura di questa edizione del nostro notiziario targato Star Casino Sport.